Il sogno Domenico Mungo sembra quasi sfumato e il Teramo comincia a guardarsi intorno alla ricerca di giocatori che possono essere funzionali al progetto. Nelle ultime ore in Casa Diavolo si è passati dall'euforia per una trattativa quasi all'atto conclusivo e positivo alla sensazione che adesso bisogna battere altre strade. Questo perché sul centrocampista del Cosenza si è scatenata una vera e propria bagarre e col ragazzo in attesa di capire meglio gli scenari che avrà di fronte prima di prendere una decisione sul suo futuro. Un tempo che però il Teramo non ha. Perché domenica ci sarà il raduno e poi la partenza per Celano ma soprattutto perché la dirigenza sembra agire con un cliché prestabilito. L'offerta è l'attesa per la risposta in tempi brevi. Se non arriva si passa ad altri obiettivi. Così è stato anche per il difensore Francesco Cosenza del Lecce, pista abbandonata, quando si è capito che il giocatore non era pienamente convinto di sposare il progetto bianco-rosso. Ecco perché poi ci si è tuffati su Andrea Cristini, bruciando anche quella regina che per bocca del direttore sportivo Granata Taibi con il ragazzo aveva già un accordo di massima. Nelle prossime ore intanto sarà ufficiale il ritorno di Luca Di Matteo che proprio con i Salentini ha concluso il suo contratto prima di indossare di nuovo la maglia portata per i sei mesi più esaltanti della storia del diavolo. Con Di Matteo sarà definito anche l'accordo per il giovane Simone Santoro di cui Tedino aveva parlato anche nella conferenza stampa di presentazione. Santoro nelle intenzioni del tecnico andrebbe a posizionarsi nel ruolo che nelle ultime stagioni è stato di Amadio prima e di Ranieri ma soprattutto Mattia Proietti poi. Il tutto senza tralasciare la fascia a destra della difesa. Alessandro Eleuteri dell'Atalanta, seguito nei primi giorni del mercato, si è casato proprio alla Feralpi Salò, così come Carraro che era stata un'idea del tecnico che aveva contattato direttamente il centrocampista del Limolese. Intanto lunedì sarà il giorno della presentazione di Cetteo Di Mascio a capo del settore giovanile del Teramo dopo l'addio all'Ascoli. Per Di Mascio un contratto di cinque anni per ricominciare un percorso diverso rispetto a quello fatto finora.